Bene, buongiorno. Nella lezione di stamani continuiamo a studiare le vibrazioni forzate di sistemi ad un grado di libertà. Ed in particolare stamani ci focalizziamo sulla analisi della risposta ad una forzante armonica che ha però ampiezza, non costante come visto nella lezione precedente, ma ampiezza proporzionale al quadrato della forzante stessa. Quindi quello che studiamo è un sistema fatto in questo modo. Abbiamo, diciamo, la nostra massa m che ovviamente è collegata e può traslare soltanto in direzione orizzontale, quindi immaginatevi che in pratica è come se la massa m fosse, diciamo, collegata mediante una coppia prismatica al telaio per cui che gli consente soltanto, diciamo, una traslazione in direzione orizzontale, che peraltro è l'unico grado di libertà che abbiamo sempre associato alla massa m, collegata al telaio da una molla di costante elastica k, uno smorzatore di coefficiente di smorzamento c e da un inerte di coefficiente b. Quindi la posizione della massa m rispetto a un scontro fisso sul telaio viene indicata con la coordinata x. Ecco, poi, adesso, quello che dobbiamo pensare è che, diciamo, sia presente sulla massa m, ok, un sistema di due massettine, ok, una massa m qui e una massa m qui, incernierate mediante delle biellettine in questo punto e in questo punto alla massa grande m, e queste due massettine hanno una configurazione, ok, data da questo angolo che è ωt e questo angolo che è ωt, con ω, diciamo, velocità angolare di rotazione di queste biellettine, ok, rispetto alla direzione verticale, no? Quindi cosa succede? Queste due massettine contro rotanti, rotando, grazie, diciamo, se volete vedere in un sistema di riferimento relativo, applicano, mediante forza centrifuga, delle forze dirette in questo modo, che, diciamo, si annullano in direzione verticale ma si sommano in direzione orizzontale, no? E quindi sicuramente queste massettine girando con velocità angolare ω e meno ω, quindi quella sotto con velocità angolare ω anti-oraria e quella sopra con velocità angolare ω oraria, creano uno sbilanciamento del sistema, no? Quindi di fatto quello che studiamo è una sorta di eccitazione indotta dallo sbilanciamento di queste due massettine che ruotano, eh? E quindi questo potrebbe essere, potrebbe far pensare a uno sbilanciamento diciamo tipo, tipo lavatrice, no? Nel momento in cui c'è un carico eccentrico che ruota nel cestello. Chiaramente qualsiasi tipo di sbilanciamento dovuto a eccentricità ricade sotto una modellazione di questo tipo, eh? Quindi cosa facciamo? Ecco, un'altra cosa stavo dimenticando, quindi rispetto a un orizzontale fisso abbiamo detto utilizziamo come coordinata x la posizione della massa grande m e misuriamo sempre rispetto allo stesso riferimento fisso come coordinata y la posizione, diciamo, orizzontale delle due massettine che ovviamente contro ruotando con la stessa velocità angolare hanno entrambe la stessa coordinata y, eh? Questa, diciamo, questa coordinata y qui rimane sempre la stessa per entrambe le masse, eh? Allora, quello che vogliamo fare, vogliamo scrivere quali sono le equazioni che reggono questo sistema e che tipo di oscillazione forzata si arriva a scrivere e di conseguenza effettuare un, diciamo, un'analisi di qual è la soluzione dell'oscillazione in x della massa m soggetta a questo sbilanciamento dinamico, eh? Quindi cosa si fa? Naturalmente andiamo a scrivere l'equazione equilibrio dinamico in orizzontale e quindi al solito andiamo a scrivere che la sommatoria delle forze è uguale alla massa per l'accelerazione. Ecco, una cosa che facciamo, mi raccomando, è scriviamo l'equilibrio orizzontale del sistema del sistema costituito, diciamo, dalla massa m grande e dalle masse, dalle due massettine 2m, ok? Quindi in pratica dovete pensare che il sistema che stiamo considerando è, di cui scriviamo l'equilibrio, è direttamente questo sistema qui, ok? Quindi anche se la massa m grande e le due massettine non sono solidali fra di loro perché non sono un unico corpo rigido, però noi possiamo scrivere l'equilibrio del sottosistema dato da m grande più le due masse m e cosa considereremo? Considereremo chiaramente la massa grande per la sua accelerazione e le massettine 2m per le loro accelerazioni orizzontali e, come risultante delle forze, chiaramente non metteremo le forze interne che si scambiano la massa m grande con le massettine attraverso queste cerniere, ma metteremo semplicemente le forze esterne, no? Come ci dice giustamente Newton. Di conseguenza le equazioni di equilibrio saranno la sommatoria delle forze esterne, no? Applicate al sistema m più 2m sarà dato da la forza della volla, quindi meno kx meno cx punto meno il contributo delle linee herter b b per x due punti uguale alla massa, diciamo, totale per l'accelerazione totale, ovvero, diciamo, la massa m grande per la sua accelerazione, quindi la sua coordinata x, quindi la sua accelerazione sarà x due punti, più le due massettine, 2m, per la loro accelerazione orizzontale, dato che comunque entrambe hanno la stessa posizione orizzontale e di conseguenza anche la loro, la stessa accelerazione orizzontale, no? Ecco, tuttavia, diciamo, dato che il moto, il moto relativo delle massettine m rispetto ad m è imposto, sicuramente ci sarà una relazione di questo tipo fra le coordinate, cioè la y, la configurazione y delle massettine in orizzontale sarà pari ad x più cosa? Più la componente orizzontale della distanza fra, diciamo, la massa m e la cerniera, no? Quindi, essendo l'eccentricità e, quindi la lunghezza di queste biellettine e, questo sarà uguale a e per il seno di ωt, ok? Perché giustamente, essendo e questa distanza, questa è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo fatto così, quindi se questo è l'angolo, naturalmente la coordinata orizzontale sarà e per il seno dell'angolo, dell'angolo, di quell'angolo lì che è ωt, ecco, ok? Quindi, naturalmente, derivando rispetto al tempo questa equazione di congruenza, no? che mi lega, appunto, gli spostamenti assoluti e relativo, avrò x punto più ω per e per il coseno di ωt e, naturalmente, derivando due volte, y due punti avrò x due punti meno ωt per e per il seno di ωt. Bene. Quindi, a questo punto, cosa posso fare? Posso andare a sostituire, al posto di y, l'espressione in funzione di, appunto, l'espressione in funzione di x e l'espressione in funzione dell'eccentricità e del seno di ωt e, quindi, se la riordino, questa equazione risulta essere fatta così. Quindi, la massa m più 2m più b che moltiplica x due punti più c per x punto più kx, questo sarà uguale a 2m e ω quadro per il seno di ωt. Ok? Quindi questa, diciamo, è la nostra equazione d'equilibrio, ok? In cui, naturalmente, si vede che, sostanzialmente, è come se avessimo, no, una massa complessiva, che qui possiamo già chiamare, diciamo, m barra, ok? Che viene, quindi che è un contributo, chiaramente, della massa m grande e della massa blu, delle due massettine sbilanciate, del contributo dell'inerter, che ovviamente vengono poi richiamate dalla forza dello smorzatore, dalla forza della molla, e però vengono eccitate da un termine, vedete che ha un andamento di tipo armonico, seno di ωt, però un'ampiezza, no, questa qua, che dipende dal quadrato della pulsazione ω, che è esattamente la pulsazione, quindi la pulsazione del seno, no, quindi questo contributo armonico. Quindi, in questo caso, la pulsazione ha un'ampiezza proporzionale al quadrato della, al quadrato della pulsazione, quindi, diciamo, dal quadrato della velocità angolare di rotazione, diciamo, di queste due massettine. E vedete che una cosa fondamentale è il contributo dell'eccentricità che entra in forma lineare. Quindi, ad esempio, si vede chiaramente che se quelle massettine, diciamo, non fossero sbilanciate, quindi in realtà quelle massettine avessero una distanza e nulla rispetto alle loro cerniere, chiaramente non nascerebbe nessuna relazione centrifuga, e questo termine forzante, questo termine forzante qua, chiaramente sarebbe identicamente nullo, no? Quindi in realtà il sistema in quel caso lì non sarebbe ovviamente forzato. Quindi cosa facciamo? Facciamo adesso delle posizioni per cercare di scrivere il sistema in modo più, in modo più comodo, no? Quindi facciamo così, abbiamo detto che definiamo questa massa, questa m barra, come la massa complessiva, quindi come coefficiente del termine di secondo grado, no? Quindi questo risulta m più 2m più b, ok. Poi cosa facciamo? Quindi questo ci serve perché noi vorremmo a questo punto prendere l'equazione e, diciamo, normalizzarla rispetto al coefficiente del termine di secondo ordine, no? Quindi vorremmo arrivare a scrivere qualcosa di questo tipo, x due punti più c diviso m barra per x punto più k diviso m barra, scusate, k diviso m barra per x uguale a 2m per e omega quadro diviso m barra per il seno di omega t. E cosa facciamo? Diciamo, in accordo con quanto fatto fino adesso, per cercare di ottenere una versione standard delle equazioni, ovviamente noi definiamo con, una volta definito m barra in questo modo, chiaramente il coefficiente del termine di secondo ordine, definiamo omega n al quadrato il coefficiente del termine derivato 0 volte, quindi il termine è semplicemente x, no? E quindi questo k su m barra è omega n al quadrato e poi definiamo 2xi omega n il coefficiente del termine, diciamo, derivato rispetto al tempo, quindi il della velocità, quindi x punto. Quindi qui scriviamo questo uguale c diviso m barra. Inoltre cosa facciamo? Imponiamo che questo pezzettino qui, per quanto riguarda l'ampiezza della forzante, scriviamo che 2m diviso m grande per e, ok? Questo termine qui lo chiamiamo a. D'accordo? Quindi questa è come una grandezza, diciamo, ausiliaria che noi adesso andiamo a introdurre. Quindi, fatte queste posizioni, l'equazione risulta essere questa, x due punti più 2xi omega n, x punto, più omega n al quadrato per x uguale a a omega quadro per il seno di omega t. D'accordo? Quindi questa, diciamo, è la forma dell'equazione forzata dovuta, dovuto a questo sbilanciamento delle massettine, riportata in una forma, in una forma standard, eh, in cui c'è comparso direttamente, in cui, diciamo, abbiamo adesso dei coefficienti standard che ci semplificano un pochino la scrittura delle cose. Quindi ci riportiamo l'equazione qua e adesso andiamo a fare delle considerazioni per cercare di risolverla, no? Ecco, una prima cosa che facciamo, abbiamo detto il termine, la forzante, che vedete adesso risulta essere una funzione armonica perché abbiamo un seno di omega t, diciamo, senza perdita di generalità, anzi, diciamo, un'estensione di generalità è quello di considerare che la forzante, invece di essere a omega quadro seno di omega t, sia in realtà una forzante complessa scritta mediante il fasore e alla i omega t, d'accordo? Perché chiaramente mediante le formule di Olero si è visto che e alla i omega t è una parte seno che una parte, una parte coseno che una parte seno. Quindi di fatto andiamo a studiare una forzante che ha una parte reale, una parte immaginaria, no? La risposta alla sola parte immaginaria sarebbe la risposta al seno che abbiamo scritto adesso, la risposta alla sola parte reale sarebbe semplicemente la risposta al caso in cui avessimo una citazione data dal coseno di omega t, ok? Quindi in realtà risolvendo nel campo dei complessi, mediante un'eccitazione di tipo fasoriale, noi siamo in grado poi di ottenere come caso particolare l'eccitazione o rispetto al seno rispetto al coseno, no? Tanto, diciamo, non cambia niente in termini di ampiezza della risposta, dell'oscillazione forzata e della sua fase. Quindi quello che facciamo è, appunto, il primo passettino è quello di riscrivere questa equazione ipotizzando una citazione di tipo fasoriale, quindi omega n per x punto più omega n quadro per x uguale a omega quadro per e alla i omega t. Quindi quello che facciamo di nuovo, cerchiamo adesso cosa? Importante. Cerchiamo una soluzione a regime, d'accordo? Quindi sappiamo che ovviamente la soluzione sarebbe sempre la soluzione dell'omogenea associata più la soluzione particolare della completa, però diciamo, se ci interessa, se ipotizziamo che il sistema sia ovviamente smorzato, no? Eventualmente potete, per fissare l'idea, pensare che sia un sistema sottosmorzato, per cui avrebbe delle oscillazioni, diciamo, la parte libera che decade esponenzialmente a zero. Quello che rimane dopo un po' è soltanto la risposta all'eccitazione forzata, che è la soluzione particolare della completa. Quindi quello che facciamo noi adesso è andiamo a cercare semplicemente la soluzione particolare della completa, perché questa coinciderà con la soluzione a regime, cioè dopo che il transitorio iniziale è scomparso. E chiaramente dovendo cercare una soluzione a regime, quindi la soluzione particolare della completa, quello che facciamo è cerchiamo una soluzione particolare della completa dello stesso tipo della forzante, come abbiamo già fatto, no? Quindi cerchiamo una soluzione x di t del tipo x grande per e alla iωt, quindi esattamente alla stessa pulsazione ω della forzante, no? Con x, che è ovviamente anche in questo caso un numero complesso che contiene sia l'ampiezza dell'oscillazione che lo sfasamento rispetto alla forzante, d'accordo? Quindi con questo x, che ovviamente di nuovo è il modulo, scusate, non questo, con questo x che a sua volta può essere scritto come a per e alla i fi, ok? E in cui questo a è il modulo, ok, della ampiezza dell'oscillazione e fi è la fase, d'accordo? Quindi cosa si fa? Si prende la x, la x, la deriviamo rispetto al tempo, otteniamo iωx per e alla iωt, x due punti, deriviamo due volte, otteniamo meno ω quadro per x per e alla iωt, andiamo a sostituire l'equazione differenziale, fattorizziamo rispetto al termine x per e alla iωt che è presente nell'accelerazione, nella velocità e ovviamente nello spostamento e otteniamo un'equazione di questo tipo, quindi meno ω quadro grande più ω n al quadrato più i per 2 xi ω n ω grande, tutto che moltiplica è la x per e alla iωt uguale a aω quadro per e alla iωt, ok? Quindi siccome questa equazione deve essere vera per ogni t, divido, divido per, quindi semplifico e alla iωt, che è una quantità diversa da zero, di conseguenza vado cercando la mia risposta x che risulta essere uguale a questa frazione, quindi ω quadro diviso ω n al quadrato meno ω quadro più i volte 2 xi ω n ω grande moltiplicato per a, ok? E vedete che quello che posso fare è posso chiaramente chiamare questa parentesi, questa parentesi la posso chiamare g asterisco che moltiplica a e posso definire questa g asterisco come la risposta, la risposta in frequenza, eh? In frequenza. Con questo valore a, diciamo, che rappresenta semplicemente un fattore di scala, ok, associato al mio sistema specifico, eh? Quindi in particolare vi ricordo che la a è stata definita, in questo modo, come 2m diviso m grande, quindi questo termine qui, a è stato definito come 2m su m grande per e per a, ok? Quindi fissate, ad esempio, l'entità delle massettine sbilancianti m piccolo e la massa m grande, che è data dal contributo di m più 2m più b, quindi data, diciamo, le inerze del sistema fissate, questa quantità a dipende, diciamo, linearmente dallo sbilanciamento, dall'eccentricità e dei carichi, eh? E quindi, sostanzialmente, analizzando la risposta in frequenza g asterisco, ok? Ho una sorta di ampiezza dell'oscillazione adimensionalizzata rispetto all'eccentricità, a, no? Per cui se aumento l'eccentricità avrò una risposta x che cresce linearmente mediante moltiplicazione di g asterisco per a, eh? Bene, quindi possiamo, eh, a questo punto, eh, vedete, la cosa interessante è che di nuovo, come si è fatto per l'altra volta, questa g asterisco è definita risposta in frequenza, ma naturalmente questa risposta in frequenza, stavolta, diciamo, dipende, tiene e tiene in conto del fatto che l'ampiezza della forzante è proporzionale al quadrato della pulsazione. Infatti, al numeratore stavolta mi ci trovo ω quadro, no? Quindi una cosa che posso fare, ad esempio, per riportarla in una forma più simile a quella che ho visto prima, posso prendere, appunto, la g asterisco e dividere numeratore e denominatore per la pulsazione naturale al quadrato, ok? Quindi posso arrivare a scrivere un'espressione di questo tipo, cioè r quadro diviso 1 meno r quadro più i volte 2 xi r, ok? Dove, scusate, questa è la g asterisco, dove chiaramente cosa ho fatto? Ho preso numeratore e denominatore del g asterisco, l'ho divisa per ω n quadro e ho, ovviamente, come ho già fatto, introdotto che l'ho chiamato r, il rapporto fra la pulsazione della forzante e la pulsazione naturale. E cosa vedo? Vedo anche che questa g asterisco è, vedete, qui abbiamo un numeratore che è r quadro e un denominatore che è esattamente quello della volta scorsa. Quindi se mi ricordo la mia g che era la risposta all'oscillazione forzata armonica nel caso di ampiezza della forzante costante, vedo anche che questa g asterisco può essere scritta come la mia, diciamo, risposta in frequenza ad una forzante di ampiezza costante moltiplicata per r quadrato. Quindi c'è questo, diciamo, interessante parallelismo fra la risposta in frequenza nel caso in cui l'ampiezza della forzante sia proporzionale al quadrato della pulsazione oppure nel caso in cui la risposta in frequenza, la risposta in frequenza di una forzante di ampiezza costante. Ovviamente sempre di tipo armonico, ma di ampiezza costante. Quindi, diciamo, semplicemente se vogliamo andare a studiare, ad esempio, ampiezza e fase, la cosa interessante sarà notare naturalmente che l'ampiezza, quindi essendo questo g asterisco un numero complesso, l'ampiezza di questa g asterisco, cioè il suo modulo, sarà ovviamente uguale al modulo della g vecchia moltiplicato per r al quadrato. Quindi, diciamo, il grafico delle ampiezze verrà deformato in questo modo. Invece si nota che, vedete, cosa interessante, che la fase, la fase, diciamo, di g asterisco, è esattamente uguale alla fase del vecchio g. Perché? Questo è abbastanza ovvio, no? Perché essendo g un numero complesso, d'accordo? Che abbiamo visto era calcolato come il rapporto fra la fase, diciamo, g aveva una fase che era pari alla fase del numeratore meno la fase del denominatore, no? Il numeratore era 1, quindi era un numero reale. Il g asterisco è g moltiplicato per r quadro, quindi in pratica stavolta al numeratore ho r quadro, che comunque è ancora un numero scalare, scusate, è un numero reale. Quindi cosa succede? Succede ancora che il numeratore è reale, quindi sostanzialmente la fase di g asterisco è ancora calcolato come la fase del numeratore meno la fase del denominatore. ma siccome la fase del numeratore, essendo numeratore un numero reale, è ancora fase nulla, la fase di questo g asterisco è ovviamente uguale alla fase del vecchio g. Quindi in termini di diagramma delle fasi posso andare qualche pagina indietro sugli appunti e riprendere quel grafico e questa è ancora la fase di g asterisco. Mentre per quanto riguarda l'ampiezza dell'oscillazione posso naturalmente andare a prendermi un grafico già fatto e lo commentiamo insieme, no? Quindi questo qui che vado adesso a prendere rappresenta esattamente l'ampiezza di g asterisco, quindi esattamente l'ampiezza della risposta in frequenza nel caso di forzante con l'ampiezza proporzionale al quadrato della pulsazione. E cosa vado a notare, no? Allora, vedete, quello che vado a notare è che, diciamo, per r, facciamo delle osservazioni su questo grafico. Quindi questo grafico cosa rappresenta? Abbiamo in ascissa il rapporto a r, che è ω diviso ωn, cioè il rapporto tra l'ampiezza della pulsazione della forzante rispetto all'ampiezza della pulsazione naturale del sistema non smorzato, no? E in ordinata ho il modulo di questa g asterisco, della risposta in frequenza. Cosa vedo? Vedo che, ad esempio, per r uguale a 0, quindi qui naturalmente ho riportato varie curve riportate per valori del fattore di smorzamento crescente. Quindi, ad esempio, se il fattore di smorzamento è nullo, l'andamento è di questo tipo qua, ok? Se ho un fattore di smorzamento che è leggermente più grande, che succede? Non ho più un valore, diciamo, che tende all'infinito dell'ampiezza dell'oscillazione, ma è un valore che è finito, che ha un certo massimo, no? Se aumento ancora il fattore di smorzamento, queste curve hanno questo andamento qui, fintanto che poi per valori molto elevati, diciamo, non esiste più un massimo di queste curve, ma semplicemente le curve tendono a questo asintoso di orizzontale dal basso, eh? Quindi cosa si vede? Si vede che per r uguale 0, tutte queste curve partono da 0. Perché? Perché chiaramente, essendo al numeratore r quadro, se r è uguale a 0, questa quantità ovviamente va a 0, no? E quindi giustamente cosa sta succedendo? Sta succedendo che se ho, siccome ho l'ampiezza della forzante che è proporzionale alla ω quadro e r è ω diviso ω n, naturalmente per r uguale a 0, ω uguale a 0, quindi è vero che ho una forzante con pulsazione nulla, ma che è anche ampiezza nulla e quindi non sta forzando un bel niente, no? Per cui l'ampiezza dell'oscillazione è 0. Poi cosa succede? Si vede che per r che tende all'infinito, in realtà esiste un asintoto orizzontale per cui l'ampiezza dell'oscillazione risulta essere esattamente uguale all'ampiezza della, diciamo, all'ampiezza della forzante. Quindi facciamo in ordine qualche osservazione. Quindi per r, diciamo, che tende a 0, comunque la funzione è continua, quindi la potrei calcolare anche esattamente uguale a 0, ma diciamo per r che tende a 0, noto che il modulo, della g asterisco ovviamente tende a 0, no? E quindi questo qui è il caso in cui sostanzialmente la forzante a ω uguale, diciamo, a ω che tende a 0 e anche ampiezza che tende a 0, no? E quindi non sta eccitando niente, per cui questo torna abbastanza, no? E per r, invece per r che tende all'infinito, che succede? Che il modulo, quindi l'ampiezza della g asterisco tende a 1, eh? E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'ampiezza di x, no? Cioè l'ampiezza della x di t, che è uguale naturalmente anche a, diciamo, se volete, il modulo di x che abbiamo chiamato anche a, l'abbiamo chiamato, insomma, in vari modi diversi, questo diventa cosa? Abbiamo detto che questo è g asterisco moltiplicato a, perché nel modulo dell'ampiezza, no? Il modulo dell'ampiezza dell'oscillazione è a volte il modulo dell'ag asterisco, no? E con, ovviamente, ci ricordiamo a che era uguale a 2m diviso m barra moltiplicato e, ok? Poi si nota anche un'altra cosa, si nota anche che per r che tende all'infinito, cioè per omega, quindi per r che tende all'infinito, abbiamo detto che il diagramma delle fasi è esattamente uguale al diagramma delle fasi della g, ok? Il diagramma delle fasi della g asterisco è esattamente uguale al diagramma delle fasi della g per la considerazione vista prima. Quindi la fase, cosa fa? Tende a meno pi greco, no? Tende a meno pi greco. Quindi proviamo a vedere un attimo cosa succede, quindi interessantemente, cosa succede, ad esempio, quando la omega tende all'infinito, no? Cosa succede verso questo asintoto qua? Eh, succede questo, succede che, diciamo, la risposta x di t, cosa sarà? Abbiamo detto che sarà un'ampiezza pari a, esattamente, ad a, perché g asterisco all'infinito tende a 1, no? Quindi avrà un'ampiezza a, solo che ha una fase pari a meno pi greco. Quindi, diciamo, se la risposta, riportiamoci adesso nella risposta al seno, no? Se avevamo che la risposta, che la forzante era di tipo seno di omega t, adesso avremo una risposta che è seno di omega t, quindi la risposta sarà a per il seno di omega t più fi, ma fi è uguale a meno pi greco, no? Quindi meno pi greco. Quindi, in sostanza, se abbiamo la risposta a un seno meno pi greco, abbiamo meno a seno di omega t, ok? Quindi la risposta è esattamente in opposizione di fase rispetto alla forzante, no? Quindi la y di t, la y di t sarà, ovviamente, uguale, per le conversioni di congruenza, x di t più e per il seno di omega t, d'accordo? Quindi se adesso vado a esplicitare anche l'espressione per a, ottengo che questo è 2m diviso m barra per e seno di omega t più e seno di omega t, eh? E quindi cosa posso fare? Posso, ho trovato, diciamo, la posizione della x, no? La risposta per una pulsazione omega, diciamo, che cresce molto grande. Quindi devo ipotizzare che qui, ovviamente, questa omega sia molto grande perché la risposta, nel caso in cui omega su omega n, diciamo, tenda all'infinito, quindi è un valore molto grande. La cosa che è interessante, interessante che voglio vedere è cosa succede al sistema, no? In particolare mi vado a calcolare cosa fa il centro di massa complessivo del sistema, no? Quindi come lo faccio a calcolare la posizione del centro di massa complessiva del sistema in questa condizione? Eh, lo calcolo in base alla definizione, perché dico che la massa m più, chiaramente, l'inerter che c'è collegato, no? Si sta spostando di x, le due massettine si stanno spostando di y, ok? Quindi il, diciamo, la massa complessiva del sistema, che ovviamente è uguale a m bar, perché tiene conto della massa m grande, dell'inerter, le due massettine, avrà una posizione orizzontale del centro di massa x, chiamo xg, che sarà, ovviamente, dovrà verificare questa equazione. Questa, diciamo, è direttamente l'equazione che definisce il centro di massa del sistema, no? Quindi adesso cosa posso fare? Posso andare a scrivere che xg di t è uguale a m più b diviso m barra, che moltiplica x di t, cioè che moltiplica meno 2m per e diviso m barra per il seno di omega t più 2m per la y di t, cioè meno 2m e diviso m barra per il seno di omega t più e seno di omega t e quindi questo è uguale, diciamo, a cosa? Se tengo conto del fatto che, se tengo conto del fatto che ovviamente m barra è uguale a m più b più 2m, no? E quindi m barra meno 2m piccolo è uguale a m più b, se tengo conto di questo, l'espressione sopra risulta essere, no? Quindi se tengo conto di questo, l'espressione sopra x baricentro risulta essere meno 2m e per il seno di omega t diviso m barra che moltiplica m più b più 2m e seno di omega t diviso m barra per m più b. Quindi vedo ovviamente che questi due termini sono uguali opposti e quindi complessivamente la posizione del centro di massa è uguale a 0, no? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica il centro di massa rimane fermo e quindi quello che sta succedendo in pratica per valori molto grandi della omega, quindi se omega è circa infinito, quindi molto grande, comunque immaginate molto grandi, cosa vuol dire? Che queste massettine stanno ruotando molto velocemente, no? Stanno ruotando molto velocemente e in pratica la massa m ha un moto che è in opposizione di fase rispetto alla forzante causata da queste massettine, no? È in opposizione di fase e è in opposizione di fase tale di fatto da avere il centro di massa complessivo del sistema che rimane esattamente fisso, eh? Quindi in pratica, diciamo, l'inerzia della massa m consente di opporsi allo sbilanciamento delle masse m in modo tale che il baricentro complessivo del sistema rimane esattamente fisso, rimane esattamente fermo. Questo è quello che succede ad alte frequenze, no? Mentre appunto in condizioni intermedie, come abbiamo visto adesso, l'andamento è quello riportato in figura e quindi naturalmente uno potrebbe andare a calcolarsi il valore, ad esempio, per un dato xi, qual è il punto di massimo, ok? E quanto vale la funzione, quindi quanto vale il massimo e così via. Però l'importante, diciamo, è capire un attimo questo tipo di andamento, di questa g asterisco, che di fatto è l'andamento della g moltiplicata per r quadro. Quindi questo, diciamo, esaurisce un pochino questa lezione sullo studio delle oscillazioni forzate, in questo caso particolare, forzate con ampiezza proporzionale al quadrato della pulsazione, cosa che succede in sistemi, diciamo, sbilanciati tipo eccentrici, eh? Bene, vi ringrazio per l'attenzione.